Zaccagni di testa in area immobile lascia lì Zaccagni uno contro uno Luis Alberto si crea lo spazio e calcia Luis Alberto mostra nome numero 10 Luis Alberto 2 a 0 suona e destro che Montipò non può intercettare Filippi Anderson avanza veloce numero 7 ancora Filippi Anderson il cross in mezzo occhio al pallone per Zaccagni che si gira a calcia e trova il gol del vantaggio tre minuti e mezzo la sblocca Zaccagni Lazio 1 Napoli 0 comincia fortissimo il match all'Olimpico Cataldi arriva un nuovo cross allontanato anche questo da Caldara alla che cade in zona Holm poi la girata da parte di Romagnoli un momento che avrà sognato a lungo il primo gol con la maglia della Lazio di Alessio Romagnoli e anche un super gol Cataldi profondo a cercare Marusic che scatta da controllare la posizione arriva al centro Pedro Marusic rientra sul destro prova il tocco dietro per Filippi Anderson controllo e tiro e del 2 a 0 Lazio raddoppia Filippi Anderson il vice Ciro Immobile seconda rete in campionato per Filippi Anderson lui è Salberto dentro che palla per Romagnoli e Savic tacco per Immobile super gol della Lazio immensa qualità per la squadra di Sarri deliziosa azione della squadra bianco celeste